Una buona giornata cari amici, iniziamo presto perché oggi dopo questa incredibile, speriamo anche irripetibile e sicuramente estenuante maratona, arriva l'ultimo giorno della Serie A 19-20 e se dobbiamo giudicare dall'antipasto, ovvero dal penultimo giorno, ovvero da quello che abbiamo vissuto ieri sera, oggi potremmo finire veramente coi botti. Oggi ci occupiamo soprattutto della lotta salvezza, io sarò a Marassi per commentare Genoa-Ellas-Verona, una partita carica di aspettativa, di tensione, di paure, vedremo se il Genoa riuscirà ad evitare un clamoroso capitombolo o se invece sarà Lecce a regalarci l'ultimo miracolo sportivo di questa stagione, ma sono i temi per questa sera dove di rimbalzo ci sarà anche nella corsa simbolica ma fino a un certo punto all'ottavo posto perché fra Sassuolo e Verona vorrebbe dire arrivare per primi nel campionato degli umani di quelli normali e sarebbe un risultato grandioso per queste due società che sono stati esempi splendidi di programmazione calcistica e di applicazione del lavoro dell'idea. Ma ripeto, questi sono i temi di oggi. I temi di ieri sera sono stati temi esplosi, permettetemi di dire, quasi all'improvviso perché ci aspettavamo una serata a briglie sciolte, una serata divertente con il confronto fra Atalanta e Inter, valevole per il secondo posto, con la possibilità per Immobile di stabilire un record clamoroso allo stesso tempo per la Lazio di magari risorpassare queste due squadre che erano un po' designate per dividersi la seconda piazza. C'era il Milan che chiudeva la sua straordinaria seconda parte di stagione in casa col Cagliari e c'era la festa programmata della Juventus contro la Roma. Bene, una serata sulla carta diciamo sbarazzina si è trasformata in una serata di botti continui perché effettivamente Immobile ha scritto la storia, ma la Lazio ha chiuso il quarto posto. Questo campionato battuta dal Napoli ed è un risultato che non rende giustizia alla stagione dei Bianco Celesti, infatti si è chiuso con molto nervosismo. La Juventus ha festeggiato, ha festeggiato il suo scudetto in uno stadio vuoto in condizioni particolari, ma ha perso ancora. Ha perso contro la Roma e io non sono convintissimo che questo sia il modo migliore per avvicinarsi alla Champions League. L'Inter ha calato forse la sua miglior partita in termini qualitativi, in termini anche di importanza dell'avversario degli ultimi tempi, eppure l'allenatore Antonio Conte è esploso come raramente aveva fatto in questa stagione alla fine del match. Il Milan ha vinto, il Milan ha aperto una finestra sul futuro, ha segnato in qualche modo dei record. Quindi abbiamo veramente tante cose di cui parlare, francamente non so da dove cominciare. Ah, in tutto ciò c'era stata anche la partita fra il Brescia e la Sampdoria, un 1-1 estivo diciamo, un bel gol di Leris, un altro timbro di Torregrossa, il rigore sbagliato da Quagliarella, ma è una partita che toccherei tangenzialmente, visto che lì davvero non c'era assolutamente niente in palio fra una squadra già ampiamente retrocessa, e un'altra che si è salvata molto bene, ammetto di aver visto la partita un po' distrattamente, perché mi sono concentrato molto di più sulla finale di Coppa d'Inghilterra, vinta meritatamente dall'Arsenal di Arteta sul Chelsea di Frank Lampard, che era andato in vantaggio con un gol bellissimo, un gol splendidamente costruito, un'azione in verticale che lasciava pensare ad un dominio del Chelsea, gol realizzato da Pulisic, e invece poi Aubameyang con la sua doppietta ha dato il trofeo ai Gunners e la possibilità di partecipare alla prossima Europa League, tra l'altro per il Chelsea anche degli infortuni, un po' di situazioni anche con dell'apprensione, vedi quello che è successo alla fine a Pedro, ma questo insomma è stato l'inciso, è stato il pomeriggio, la serata ci ha portato dei temi molto forti in questa conclusione della Serie A, allora andiamo ad analizzarli. Ripeto, sono un po' in difficoltà sul incolonnarli questi temi, sul decidere le priorità, le gerarchie, perché sono tutte cose molto importanti. Inizio dalla Juventus perché è campione d'Italia, la Juventus ha vinto il suo campionato, lo ha festeggiato, però ha perso ancora, ha perso contro la Roma, ha perso in casa 3-1 e la Juventus chiude questa Serie A con un solo punto di vantaggio sull'Inter, ma questa è la cosa meno importante francamente, chiude avendo perso 4 delle ultime 8 partite, 4 sconfitte arrivate contro Milan, Udinese, Cagliari e Roma. È vero che 3 di queste 4 sconfitte sono state un po' frutto di una situazione già sistemata, già conquistata, sicuramente le ultime 3. Però 2 vittorie nelle ultime 8 partite con ben 4 sconfitte, i numeri difensivi che rimangono piuttosto impattanti perché non ci si immaginavano a Juventus con così tanti gol subiti e soprattutto il fatto che questa squadra abbia staccato totalmente la spina, pur in condizioni che qualche alibi lo permettono, non è una cosa che conforta più di tanto in vista dello spareggio assoluto con Lione che è una partita che nessuno si può permettere di sbagliare. La Juventus ha presentato una formazione molto rivisitata con tanti giovani dell'Under 23, Di Bala e Ronaldo in tribuna, insomma non è stata una partita presa col massimo della tensione così come non l'era stata quella prima col Cagliari. Però ripeto, una squadra campione, una squadra che invece adesso deve andare a fare una partita molto grossa per poter passare il turno con il Lione, che a pochi giorni dimostra di essere così lontana mentalmente, insomma non è di sicuro un bel segnale, indubbiamente sarà una Juventus molto diversa quella che vedremo contro il Lione. In questo senso il gol di Guain è una cosa importante perché dà fiducia a un giocatore che dovrà avere un ruolo significativo, un giocatore ancora lontano dallo splendore dei tempi d'oro, però il gol aiuta l'attaccante, per questo che dico che le sconfitte invece non aiutano una squadra che deve vincere e deve vincere in serie per poter inseguire il suo grande sogno. Dipenderà molto dalle condizioni di Di Bala e in questo senso le parole di Sarri mi fanno abbastanza ben sperare sulla presenza dell'argentino perché Sarri ha detto che già oggi Di Bala riprenderà a lavorare sul campo, credo che potrà essere disponibile, credo anche che vedremo una Juventus diversa rispetto a quella di queste partite ma diversa anche proprio dal punto di vista della forma perché ho visto la partita fra Paris Saint Germain e Lione, quella valsa la Coppa di Lega vinta dal PSG ai calci di rigore, il Lione si è dimostrato in un buono stato fisico anche se era la prima partita ufficiale dopo tanto tempo aveva giocato delle amichevoli ma era la prima partita ufficiale e forse sulla seconda si può patire un po' di più la mancanza di ritmo, la mancanza di abitudine a giocare delle partite importanti ravvicinate per cui non ho assolutamente certezze su che Lione la Juventus si ritroverà davanti. Spero di poter vedere, ripeto, una Juventus completamente differente perché questa è una squadra che per tutta la stagione si è dimostrata non piena né all'interno della partita né nella continuità dei suoi periodi. Non voglio assolutamente costruire dei drammi su queste sconfitte finali perché sono figli assolutamente delle contingenze anche del fatto di dover per forza mollare dopo un periodo del genere però ecco un'altra sconfitta è un segnale che è da ribaltare completamente perché dovrà essere una Juventus completamente diversa quella che si presenterà a giocarsi la Champions League in questo caldissimo agosto. Mentre per quanto riguarda la Roma la fiducia è aumentata in vista degli impegni in Europa League con il Siviglia perché Fonseca ha ritrovato la sua squadra, le ha cambiato modo di giocare, ha migliorato e ritrovato tanti valori, ha trovato anche delle alternative perché la stessa Roma si è presentata con diversi elementi che non saranno poi i titolari contro il Siviglia, ha segnato una doppietta perotti che è un giocatore che se sta bene può dare tanto a qualsiasi squadra specialmente ad una squadra che cerca costantemente la qualità del gioco anche se si è ritrovata aumentando il suo livello di equilibrio e soprattutto per la Roma. È tornato titolare Zaniolo e direi che ci ha regalato delle cose e una cosa su tutte che conferma che siamo di fronte ad un talento non normale, un talento veramente superlativo, un talento straordinario perché il gol che fa fare a Perotti per il 3 a 1 è un altro gol che dimostra innanzitutto una forza atletica dominante, impressionante. Zaniolo si è subito presentato come un giocatore di strappo ma che riesca ad avere questo tipo di strappi non solo in zone larghe del campo ma anche nella fascia centrale è un qualcosa di svalorditivo. Ha una forza fisica questo ragazzo notevolissima e poi ha la sensibilità calcistica dei giganti perché dopo una corsa del genere, dopo un break così violento, riuscire ad avere la delicatezza di quel tocco perfetto per mandare in porta al compagno. È una cosa che non vedi tanto spesso, io vi dico da tempo che considero Zaniolo il più grande talento italiano al momento presente nel nostro panorama, però a questo punto bisogna forse allargare anche un po' proprio questo panorama perché qua parliamo di un ragazzo che può diventare uno dei più forti del mondo con la giusta crescita, con la giusta mentalità, dimostrando con continuità, ma la pasta diciamo le caratteristiche sono quelle del grandissimo, non del grande, del grandissimo, per cui questa è una notizia importante per la Roma in una partita che ha anche chiuso la carriera dell'arbitro Rocchi ed è stato tutto sommato bello vedere questo arbitro celebrato dalle squadre perché è stato un arbitro che chiaramente rimarrà nella storia, un arbitro importante a livello italiano, a livello internazionale, soprattutto mi è piaciuto tantissimo andarlo ad apprezzare nel post partita, un arbitro che parla mi spalanca una porta verso il futuro, erano condizioni molto particolari e molto agevoli, però anche questo è un discorso che abbiamo affrontato tante volte, gli arbitri devono parlare in queste situazioni e anche in situazioni magari un pochino più spinose, un pochino più complicate, ma dobbiamo andare verso quella direzione e spero che Rocchi proprio con la sua ultima presenza, anche per quello che è stato a livello di figura possa avere in qualche modo non ancora aperto una porta, ma dato un giro di chiave per cercare di aprirla in futuro. Questo per quanto riguarda la partita fra Juventus e Roma, che era una grande partita, era la partita dei campioni d'Italia, ma forse era quella meno importante in questo lotto. Le due gare sicuramente più pesanti erano quelle di Bergamo e di Napoli, specialmente quella del Ghevi Stadium, perché Atalanta e Inter avevano sì la testa rivolta più agli impegni europei che non a questo finale di campionato, però se avete visto la partita avete colto come i discorsi sul secondo, terzo posto e la stessa cosa non valgano, perché poi quando fai una corsa specialmente così lunga vuoi arrivare davanti, magari non puoi arrivare davanti a tutti, ma vuoi arrivare davanti a più squadre possibili. E si è vista una bella partita, si è vista una partita secondo me ai limiti dello straordinario, straordinario forse è un aggettivo esagerato, però si è vista una grande partita fatta dall'Inter. Un Inter che Antonio Conte aveva disegnato sul suo 3-5-2, che rimane il modulo di riferimento per questa squadra, per questo progetto e per questa annata. Una partita dove abbiamo ritrovato, paradossalmente senza gol, una delle versioni più lucide e più brillanti della coppia d'attacco, perché Lautaro e Lukaku hanno giocato molto bene, soprattutto l'argentino, cattivo, presente, esplosivo, continuo. Poi i gol sono arrivati da altri, sono arrivati da un attestato di D'Ambrosio, un gol segnato immediatamente, tra l'altro costato anche qualcosa a Gollini che è uscito, spero che non abbia dei risentimenti significativi in vista della partita col PSG, che però è un po' lontana, nel tempo c'è la possibilità di recuperare l'importantissimo partire dell'Atalanta. E poi c'è stata una vera e propria perla, regalata da Young, che aveva anche disegnato l'assist per il gol di D'Ambrosio da calcio d'angolo. Young ha segnato 4 gol, Young ha dato una dimostrazione molto bella in questo suo primo semestre in Serie A, perché si è dimostrato un giocatore, nonostante l'età, di grande qualità. E quando tu punti sulla qualità, raramente sbagli. Young si è presentato anche in una condizione fisica invidiabile, visto che appunto, nonostante l'età sia avanzata anche dopo il lockdown, al di là di qualche passaggio da brivido, c'è sempre stato in un ruolo molto dispendioso. L'Inter ha vinto 2-0, una partita in cui poi l'Atalanta ha avuto delle occasioni per riaprirla, perché è stata una partita vera. Però se per la Dea arriva la lezione, una lezione molto salutare, e comunque il senso che con la crescita del livello, siccome non puoi andare sempre al 110%, e questo contene sa qualcosa, devi riuscire a volte a risolverti le partite invece che a zannarle, aggredirle, quindi a vincerle con la tecnica, l'Atalanta ha bisogno di riuscire a farlo, perché ci saranno partite da vincere con i piedi. E io credo che i piedi dei giocatori di Gasperini siano piedi adatti a questi obiettivi, a queste latitudini di classifica, perché in tutto ciò l'Atalanta non è arrivata seconda, ma è arrivata ancora terza, ed è un risultato enorme, è un risultato meraviglioso. Però Gasperini ha parlato di lezione, sono d'accordo con lui, può starci questo tra grandi virgolette piccolo bagno di umiltà, prima di andare ad affrontare un colosso come il Paris Saint-Germain. Quello che mi ha invece decisamente sorpreso è stato il modo in cui Conte ha parlato dopo la partita, ripeto, una partita che ha dato cose molto positive. A me l'Inter è piaciuta come mi era piaciuta poche volte negli ultimi tempi, nel senso che mi è piaciuta veramente tanto, ha giocato una partita di ottima condizione fisica e questo invece non mi sorprende, perché conosco le qualità e le competenze del preparatore atletico dell'Inter, che è il prof Pintus, per me uno dei migliori al mondo se non il numero uno, per cui ero sicuro che avremmo trovato un Inter in crescita nel finale di stagione per partite importanti. Però oggi è veramente una squadra molto lucida, oltre che brillante nel suo modo di girare. E che Conte alla fine della partita si sia levato non dei sassolini, ma dei veri e propri macigni lanciati giù dalla scarpata, mi ha abbastanza sorpreso, perché le parole di Conte sono state dinamitarde. Quando dice che si è sentito protetto zero, e ha ribadito più volte zero, dalla società, quando dice che lui e i giocatori sono stati lasciati un po' al loro destino, che vede gente adesso salire sul carro, Roma sul carro ci devi stare sempre, che ci sono da fare delle riflessioni al termine della stagione. Io le ho interpretate come le parole di uno che sta dicendo che difficilmente sarà l'allenatore dell'Inter anche nella prossima annata, a meno che non cambino tante cose, ma a giudicare dalla vehemenza delle sue recriminazioni e dalla profondità del suo attacco viene da pensare che siano cose talmente pesanti, talmente importanti da essere difficili da risolvere nel giro di qualche settimana, perché fra qualche settimana saremo in prestagione, non ci sarà praticamente pausa, anche per questo molti club hanno puntato sulla continuità tecnica, vedi ad esempio la scelta di confermare Iacchini da parte della Fiorentina, cose intelligenti secondo me, perché c'è poco tempo per programmare ad esempio il Torino, che invece pare ormai aver raggiunto un accordo con Giampaolo, dovrà cambiare tantissimo in pochissimo tempo, ma sono altri discorsi. Rimaniamo sulle parole di Antonio Conte. Conte era un po', direi dall'inizio che palesava questo tipo di malessere, è un anno fondamentalmente, perché io poi vado a ripensare i vari momenti e già nel precampionato di questa stagione ricorderete le tournée, il mercato e anche le stesse parole che ha detto ai miei colleghi di The Zone sulla battuta riguardante Marotta che voleva regalargli Messi per il compleanno e lui che ha risposto molto amaramente voi non avete idea di cosa ho dovuto fare per farmi portare Lukaku, ci riporta proprio a quei tempi in cui già la posizione di Conte era una posizione un po' in contestazione, anche se in questo caso ha chiarito e ci ha tenuto molto a dire che non era un discorso di mercato e non era un discorso di giocatori. Dicendo così io penso che sia un discorso molto legato al fatto che l'Inter è tradizionalmente una società fatta di tanti meandri, fatta di tante figure più o meno definite, più o meno chiare e gli spifferi ci sono sempre stati in questa società ultimamente, diciamo anche la condotta di certi giocatori, certe situazioni è stata un po' troppo sbattuta sui giornali e questa è una situazione che Conte ha combattuto e della quale ha avuto paura fin dall'inizio, lui ha cercato di blindare letteralmente la pinettina, i suoi collaboratori, c'è sempre stata un po' la caccia alla talpa, la caccia alla spia ed evidentemente non è arrivata ad una conclusione positiva, però il fatto che Conte abbia in qualche modo manifestato, perché poi è un concetto forte ma sono stati fortissimi i concetti espressi da Conte, ma che lui abbia manifestato l'inferiorità societaria dell'Inter rispetto alle squadre che vincono e rispetto in qualche modo anche alle squadre a cui lui era abituato, perché si è un po' capito questo sotto traccia, è un qualcosa che spande un eco vastissima, anche la parola un po' masticata, ma comunque buttata lì sul fatto che dovrò parlare con il presidente, ma il presidente è in Cina, lascia capire che che insomma il suo malessere è un malessere profondo e che lui vede troppe cose non a posto per poter fare un progetto vincente, nonostante giustamente lui abbia rivendicato la portata del suo lavoro, perché i punti dell'Inter sono tanti, perché i punti ottenuti in trasferta sono tantissimi, perché le vittorie e le dimostrazioni sono state tante, anche questo io ho cercato sempre di sottolinearvelo in quella che è la mia idea e in quello che è risultati molto significativi, l'Inter in fin dei conti è arrivata seconda, è arrivata un punto alla Juventus, anche se come vi dicevo prima questo è il dato meno importante e meno significativo di tutti, ma l'Inter ha fatto una stagione nettamente migliore rispetto alle stagioni scorse, sotto tutti i punti di vista, adesso che venga rivendicata in modo così brutale anche dall'allenatore, mi fa pensare che ci siano le condizioni per un qualcosa che fino a ieri pomeriggio io non avrei neanche potuto immaginare, per cui vediamo cosa succederà attorno all'Inter, sicuramente è anche un modo per caricare la squadra in vista dell'Europa League, perché adesso i giocatori dopo qualche attacco durante la stagione, dopo qualche utilizzo del bastone si sentono supportati, si sentono con l'allenatore dalla loro parte, li ha messi in trincea, li ha messi contro tutto e contro tutti e si è messo lui con loro, per cui sono cose che una squadra percepisce, però poi vedremo cosa succederà dopo l'Europa League perché insomma ricucire una situazione del genere non mi sembra facilissimo, soprattutto non mi sembra immediato, non essendoci tempo, è una situazione che è destinata ad avere una temperatura e un'ebollizione piuttosto continuata nel tempo. Mentre al quarto posto in fin dei conti c'è finita la Lazio e non può essere contenta, infatti avete visto il finale di partita con il Napoli, è stato un finale di partita nervosissimo, altro che gara morbida, gara con il Napoli con la testa al Barcellona e la Lazio ormai in vacanza, è stata una partita molto molto spessa. E la Lazio arrivando quarta un po' rovina il suo campionato e si mette fondamentalmente anche a rischio, perché è vero che è una possibilità molto remota, ma c'è la possibilità che la quarta quest'anno non vada in Champions League, perché se il Napoli vincesse la Champions e la Roma vincesse l'Europa League, cosa molto difficile, ma cosa non impossibile francamente, la quarta la Lazio non andrebbe in Champions League e sarebbe il massimo della beffa per la squadra che più di tutte è stata vicina a togliere lo scudetto alla Juventus, perché la Lazio pre-lockdown era una squadra lanciata verso questo scudetto. La Lazio post-lockdown invece è stata una squadra che non si è dimostrata all'altezza, chiudendo giustamente quarta per quello che si è visto dalla ripresa del campionato e quindi nella globalità del torneo. La Lazio festeggia il suo bomber Ciro Immobile, Ciro Immobile ha fatto qualcosa di epocale in questa stagione, segnare 36 gol in un campionato era riuscito solo una volta a Gonzalo Higuain, lui nello stadio in cui era stato sancito quel record ha trovato il suo 36esimo gol ed è di per sé davvero una cosa gigantesca, una cosa della quale dovremmo ricordarci per sempre perché ok la stagione particolare, ok i rigori, ok tutto quanto, ma uno che segna 36 gol in un campionato di Serie A è uno che ha fatto la storia. In più Immobile ha riportato la Scarpadoro in Italia e la Scarpadoro era qualcosa di quasi esclusivamente spagnolo diciamo negli ultimi anni, un italiano non vinceva la Scarpadoro addirittura dal 2007, l'ultimo era stato Francesco Totti a vincere la Scarpadoro per il nostro campionato e al di là delle riflessioni appunto sul fatto che oggi forse è un po' più facile segnare in Italia rispetto a qualche anno fa ma non mi interessa andare su questo piano, mi interessa dire che veramente Immobile deve essere salutato come uno che ci ha regalato forse la cosa più grande a livello individuale di questa stagione, però è veramente l'unica cosa di cui si può consolare la Lazio, si può consolare in vista del futuro perché io credo che la coppia, la partnership tecnica fra Immobile e Correa sia una partnership tecnica bellissima, bellissima, che può portare ulteriore crescita e che può essere la coppia d'attacco di una squadra che si presenta in Champions con le velleità che deve avere la Lazio più Luis Alberto più Milinkovic Savic, vedremo cosa porterà il mercato in entrata e in uscita, però le dimostrazioni tecniche sono state date da parte della squadra e da parte dell'allenatore, però questo finale è un finale amaro, è un finale anche abbastanza polemico e davvero io non spero niente per carità, però mi dispiacerebbe molto se si dovessero configurare queste particolarissime condizioni per le quali la Lazio non dovesse andare in Champions League perché la Lazio stramerita di tornare a giocare la Champions, direi che ha delle cautele abbastanza forti però non si sa mai, questo finale è un finale sicuramente amaro, mentre la partita è stata una bella dimostrazione da parte del Napoli, una dimostrazione di ritrovata concentrazione, ritrovata presenza, molto importante aver fatto vedere questa partita prima di imbarcarsi verso Barcellona, anche perché è stato un Napoli che ha fatto vedere le cose che Gattuso pensa per l'evoluzione di questa squadra, abbiamo già fatto tante volte il discorso sul lavoro che ha portato Gattuso, sul suo acume, sulla sua intelligenza e sulla sua capacità proprio di tradurre in cose concrete delle idee, ha abbassato il Napoli, lo ha quadrato, lo ha portato a costruire sull'autostima, lo ha portato a vincere la Coppa Italia, adesso l'idea di Gattuso per la prossima stagione ma anche per questo finale da sogni sparsi in giro per l'Europa, ha voglia di fare un salto in avanti sul piano qualitativo, di portare avanti la sua squadra e allora vedere Fabian Ruiz che arriva e segna un gol bellissimo, Gattuso vuole da un giocatore come Fabian Ruiz e in generale da una mezzala di qualità questo tipo di soluzioni, questo tipo di protagonismo, è stato molto bello vedere anche Mertens essere una volta tanto non la bocca da fuoco ma quello che ha permesso agli altri di fare gol perché Mertens ha conquistato il calcio di rigore e poi ha disegnato un assist veramente delizioso per la rete definitiva di Politano, un gol bellissimo la preoccupazione per il Napoli è legata alle condizioni di Insigne che si è fermato, un problema muscolare da valutare anche se le parole di Gattuso nell'immediato post partita sembravano abbastanza tranquille però la partita col Barcellona è vicina e in questo momento un problema muscolare sarebbe drammatico perché insegna il capitano del Napoli da un giocatore che si è riscoperto e riproposto come un giocatore cardinale, un giocatore centrale per cui è una partita che poi è finita male con questa rissa vera e propria in campo con gli stracci che sono volati da una panchina all'altra, con parole anche piuttosto forti per cui questo ci ha testimoniato la tensione che c'è stata fino alla fine in questo campionato anche in questo tipo di partite. Tensione no ma grandissima forza c'è stata anche nel finale del Milan, Milan che ha chiuso come la miglior squadra della seconda parte della stagione, nove vittorie e tre pareggi, ha celebrato diciamo chiudendo ancora con una goleada, con una prestazione brillante contro il Cagliari, inciso per il Cagliari, poteva essere una stagione migliore, ci sono delle colpe, ci sono anche delle attenuanti, la prossima dovrà essere una stagione migliore perché il Cagliari ha le qualità e ha la dimensione e anche la voglia per fare un progetto un po' più alto rispetto al risultato conseguito, mi dispiace per Zenga, ve l'ho già detto più di una volta, ho rispetto, ho simpatia, ho gradimento per la figura di Walter Zenga e anche per le sue idee da allenatore, non ha avuto la possibilità di dare delle dimostrazioni perché è arrivato in pieno lockdown praticamente e poi si è ritrovato ad avere subito i punti per stare tranquillo perché è una squadra che ha perso tensione nel finale anche se ha battuto la Juventus, il nuovo progetto sarà con un altro allenatore probabilmente di Francesco che è un allenatore molto interessante per il tipo di calcio che si vuole e si può fare a Cagliari, però io spero di rivedere Zenga presto protagonista perché ho voglia di vedere questo allenatore allenare in condizioni normali, fare un progetto serio magari con un po' di tempo a disposizione e continuo ad essere convinto che abbia delle cose da proporre e da inventare sui campi da calcio, però la chiusa è per il Milan, Milan ancora una volta trascinato da Ibrahimovic che ha fatto un gol veramente da demolitore, praticamente stava abbattendo la porta di San Siro, mi è piaciuta anche la dichiarazione di Pioli che ha detto la sfida più affascinante dell'anno prossimo è far esplodere Raffaele Leao, Leao che ha preso una traversa scintillante, ha causato l'1-0 con il palo e il rimbalzo su Clavan che ha fatto Autorete, sono molto curioso di vedere come verrà lavorato perché io vi ripeto fin dall'inizio e sono coerente con il mio pensiero, ritengo che Leao abbia le qualità per diventare un giocatore forte, un giocatore importante, un giocatore molto migliore di quello apprezzato quest'anno, maturando, facendo di più, mettendoci di più, ma le qualità ci sono e poi voglio vedere se davvero verrà lavorato come attaccante esterno, come seconda punta, come centravanti, è un materiale da lavorare, da plasmare ma è un materiale interessante così come è sempre più interessante tutto questo Milan, Donnarumma ha chiuso calando ancora una grande parata, la mediana fra Kessy e Benasser è una mediana che cresce di partita in partita anche a livello difensivo, ci sono delle cose da migliorare, però l'innesto di Kier all'arrivo in estate di Ternandes ha dato ampio respiro a questa formazione, Cialanoglu si ritrova perfettamente nella sua tazza di tè dal punto di vista tattico, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista credo anche della sicurezza mentale per cui questo gran finale del Milan deve essere un preludio a qualcos'altro perché Pioli anche in questo senso ha usato le parole giuste, ha detto in fin dei conti posso godermi tutto quanto ma quello che mi rimane in questo momento negli occhi è il meno 12 dal quarto posto e questa è la mentalità che deve avere il Milan, fame, ancora tanta fame perché per quelle che sono le pretese del mondo rosso-nero questo appunto deve essere solo un inizio e anzi diciamo una sorta di antipasto per poi un pasto completamente diverso che non sarà facile da fare perché comunque nella prossima stagione ci saranno ancora tante tante squadre agguerrite, importanti e molto ben attrezzate per lottare per i primi quattro posti però ecco la risurrezione del Milan in questa seconda parte di stagione è il riproporre un nome grande, una protagonista che deve esserci nel nostro calcio in posizioni decisamente più adatte per quello che rappresenta il Milan nella storia del calcio italiano. Questi sono stati i temi del sabato sera, temi forti, temi che cominciano anche a costruire un ponte verso il futuro ma per chiudere i conti con questa Serie A dobbiamo aspettare stasera c'è la partita fra Spalle e Fiorentina alle 18 che apre un po' che scalda i motori, c'è il grande duello salvezza fra Lecce e Genoa, Lecce che gioca in casa con il Parma, Genoa che gioca in casa con l'Ellas Verona, c'è il Sassuolo che sfida l'Udinese per confermare il proprio ottavo posto che poi ripeto dà anche un premio economico e dà la possibilità di entrare più avanti in Coppa Italia quindi saltare delle partite nella prima parte di stagione che sarà molto condensata e quindi molto esigente sul piano fisico. C'è anche la partita fra Bologna e Torino con Mijajlovic che ritroverà la sua ex squadra con il Toro che saluterà Moreno Longo perché ripeto Giampaolo sembra proprio che sarà il prossimo allenatore del Torino ed è un progetto che può diventare interessante anche se tanti discorsi si potrebbero fare attorno e li faremo durante l'estate insomma abbiamo un'ultima grande domenica di Serie A da vivere insieme e ne parleremo domani ovviamente qui sul nostro canale vi aspetto prestissimo